In primo luogo, dall'icona del software e-agency, cliccando due volte, si apre il programma e si apre subito la finestra per selezionare l'azienda. Verifichiamo che nel campo azienda ci sia l'azienda CAL, ma non c'è. Con il tasto F9 andiamo a selezionare CAL, diamo la data di inizio lavoro, in questo caso potrebbe essere il 10 gennaio, e poi diamo un OK. Vediamo che l'azienda caricata in questo momento è CAL, ma noi dobbiamo creare una nuova azienda, quella che poi serve a noi, ma deve riprendere tutti i dati dell'azienda CAL. Quindi con Utility, Programmi di Utility, Creazione nuova azienda, noi possiamo inserire l'azienda che ci interessa. Mettiamo che sia la terza A-T. Diamo OK. Il programma lavora. Aspettiamo che appaia il comando Azzerare i progressivi della nuova azienda, Sì. È necessario però ricostruire gli indici. Ecco che noi selezioniamo tutti ed eseguiamo. Terminato. Diamo Sì e con il tasto ESC ritorniamo nella pagina principale. Sempre da Utility possiamo mettere Scelta azienda e nel campo F9, scusate, nel campo Azienda, cliccare il tasto Funzione F9 e andare a scegliere la nostra azienda. A questo punto noi avremo la nostra azienda a terza A-T e potremo cominciare a lavorare. In信i La 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 Di